Buongiorno, buongiorno a tutti, scusate c'è stato qualche piccolo, diciamo, piccola difficoltà tecnica perché ho cambiato il computer e quindi ci sono stati un po' di disallineamenti e mi dispiace e mi scuso ancora. Allora, continuiamo oggi intanto, benvenuti, buon pomeriggio, continuiamo oggi il nostro ciclo che sembra proseguire per tutta la primavera, storie e vite ed artisti con Giovanni Boldini. Come già Alessandro Castiglione la settimana scorsa aveva affrontato De Nittis, così quest'oggi io affronto Boldini che è uno degli artisti italiani presenti a Parigi esattamente negli anni dell'impressionismo e che insieme a De Nittis ma insieme anche a Renzo Colombo e a Zandomenighi ha portato la voce dell'Italia a Parigi ma soprattutto si è unito alla grande rivoluzione degli impressionisti. Giovanni Boldini nasce a Ferrara, un secondo, nasce a Ferrara, eccolo qua, con un autoritratto del 1892 e in una fotografia un po' più anziano. Giovanni Boldini nasce a Ferrara nel 1842 da una famiglia direi normale di media estrazione, addirittura il padre era egli stesso un artista, un artista abbastanza modesto ma che indirizzò appunto Giovanni all'arte, ottavo di 12 figli quindi una famiglia numerosissima e che già a cinque anni aveva dimostrato molta predisposizione per il disegno, talmente tanta predisposizione che già a 12-13 anni abbandona gli studi, anche gli studi più semplici e guidato dal padre inizia ad avviarsi alla carriera, diciamo così, dell'arte, del pittore attraverso soprattutto i disegni e l'osservazioni delle opere del quattrocento e del cinquecento ferrarese, in particolare di cosmetura, che costituiscono un po' la scuola, la scuola di Boldini e lo studio della, diciamo, del rinascimento in particolare, ma soprattutto di tutta la cultura ferrarese che in parte si porterà con sé anche nel corso della sua esistenza e del corso della sua produzione. Guardiamo un autoritratto di quando Boldini aveva 14 anni, chiaramente la struttura compositiva è molto classica, è addirittura quasi seicentesca, ma in questo autoritratto un ragazzino di 14 anni dimostra già tutto il suo sapere pittorico, il suo virtuosismo, la sua capacità proprio anche di utilizzare la materia, il colore, la pittura in maniera molto, diciamo, già di grande spessore e abilità, soprattutto tecnica. I due eventi in questi anni, tra i 17 e i 18 anni, che segnano profondamente la vita artistica, ma anche personale di Boldini, sono uno, la propria conformazione fisica era talmente piccolo che venne rifiutato appunto dal servizio militare. Questo gli permise di, era alto un metro e cinquantatré, un metro e cinquantaquattro, quindi una piccola persona, però questo gli permise di dedicare gli anni centrali della sua giovinezza proprio allo studio dell'arte. Il secondo evento fu una donazione, un lascito ereditario che ebbe appunto 18 anni, un lascito abbastanza importante che gli permise di trasferirsi e di decidere di trasferirsi da Ferrara a Firenze e poi anche sostenuto naturalmente poi dalla propria arte, dalle committenze, dagli amici della grande società, a iniziare un percorso di grandi viaggi, ma soprattutto di spostamento poi definitivo prima a Londra e poi a Parigi. Arriva a Firenze nel 1848, quindi giovanissimo, in una Firenze estremamente, no 1848, 1858 scusate, in una Firenze abbastanza viva dal punto di vista culturale e artistico. Ricordo che in questa città per prima si erano avuti contatti con la pittura francese attraverso alcune personalità come Diego Martelli che faceva proprio da Spola tra Firenze e Parigi, ma soprattutto a Firenze si era creato il Caffè Michelangelo, un luogo di ritrovo, che qui vedete in un'opera pittorica di Ceccioni, in cui alcuni artisti avevano preso l'abitudine di ritrovarsi, di discutere con le stesse modalità che abbiamo riscontrato a Parigi e qui si inserisce subito Fattori, il quale sì si iscrive all'Accademia di Belle Arti, ma in realtà la sua vera scuola è affiancare gli artisti del Caffè Michelangelo, i cosiddetti macchiaioli, che qui vediamo in una fotografia del tempo, ma che vediamo soprattutto in alcune opere. sono Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, lo stesso Diego Martelli, Ceccioni e molti altri artisti giovani, abbastanza giovani, che erano un po' usciti dall'Accademia e che in autonomia anche rispetto alla pittura francese, se vogliamo anche un po' in anticipo rispetto al vero e proprio impressionismo, avevano iniziato proprio a dipingere en plein air e quindi a fare, a dipingere, a guardare alla natura, a guardare alla realtà e quindi a scrollarsi un po' di dosso la pittura risorgimentale, la pittura di storia, la pittura narrativa, i grandi quadri della metà dell'Ottocento, avevano iniziato a abbandonare completamente la pittura sacra o la pittura anche accademica per rivolgersi alla natura, per rivolgersi alla realtà. Usavano dipingere su queste piccole tavolette, vedete appunto Giovanni Fattori che dipinge Silvestro Lega impegnato sugli scogli con questo ombrello bianco che lo ripara da solo e ha in mano una piccola tavoletta con i colori a tubetto, quindi dei colori preconfezionati che permettevano loro, così come gli artisti impressionisti, di muoversi all'interno appunto del paesaggio e la loro pittura, la pittura dei macchiaioli, il termine lo dice, è una pittura macchia, riassuntiva, una pittura che tende a cogliere la luce, certamente a cogliere la realtà, a dedicarsi a paesaggi di piccole dimensioni, ma soprattutto a frantumare la pittura in una sorta di rappresentazione riassuntiva, non meticolosa della realtà. Ecco Boldini ritrae, Fattoboldini diventa amico, anzi entra nel gruppo dei macchiaioli a tutti gli effetti, anche se lo vedremo la sua pittura non userà la macchia in senso compositivo, ma userà una pennellata veloce e striata, però in questi anni la amicizia, la profonda amicizia con i macchiaioli, le discussioni, lo portano ad abbracciare un'arte decisamente nuova, decisamente aggiornata e anche consapevole di quanto stava accadendo a Parigi. Non solo per Diego Martelli, il teorico del movimento critico d'arte che viaggiava tra l'Italia e la Francia, ma anche perché Firenze, era stata il punto anche di attrazione, Firenze in generale e la Toscana, di molti personaggi internazionali, in particolare i francesi, primo dei quali Degas, ricordiamoci della famiglia Bellelli appunto dipinta a Firenze, ma anche come Desboutin o altri artisti francesi che usavano proprio venire in Francia. Questo per dimostrare l'affinità e l'attinenza, è Boldini che ritrae appunto Fattori, Fattori che ritrae Diego Martelli a Castiglioncello, una delle mete più ambite, più significative, perché luminosa, perché vicino al mare, in cui tutti si ritrovavano, per cui vedete che proprio la modalità è molto vicina a quella impressionista, e Boldini che ritrae a sua volta Diego Martelli. Ci fermiamo su quest'opera perché è certamente un'opera molto esemplare e significativa, sono tutte opere di piccole dimensioni, tavolette o tele, e abbastanza significativa perché lo ritrae in un atteggiamento, come dire, non convenzionale, seduto a terra, con le gambe incrociate, con il busto inclinato in avanti, con anche lo spazio rappresentato in maniera riassuntiva, proprio per macchie di colore, anche se rispetto agli impressionisti i macchiaioli non disdegnano di utilizzare i bruni, i neri, le ombre, non arrivano a quella frammentazione cromatica e anche a quella ricerca della luce che era propria degli impressionisti. In questo ritratto, come in altre opere, Boldini guarda moltissimo a Degas, Degas con la quale instaurerà, soprattutto quando si trasferirà a Parigi, un'amicizia di lunghissima data e che sarà il suo punto fermo rispetto a tutti gli altri impressionisti, senz'altro Degas è l'artista che lo interessa di più. O come possiamo vedere Silvestro Lega, sono tutte opere di questi anni, tra il 1855, 58, 65, insomma opere che testimoniano questa centralità di Firenze e della pittura toscana in questo momento. Ancora Cabianca, le monachine e il ritratto che Boldini fa di Cabianca, vedete, è ancora abbastanza convenzionale, ma questo ritratto ha già una caratteristica che sarà poi precipua di Boldini, cioè quella di illuminare molto il volto, di dare una centralità al volto e di rendere il volto anche ben rappresentato, ben costruito, direi quasi realistico in questo caso, e di essere invece più riassuntivo e più schematico nelle altre parti del corpo. In Firenze Boldini conosce appunto Desboutin, conosce Degas e conosce la pittura, gli artisti, non solo francesi presenti a Firenze, ma anche grandi famiglie internazionali, inglesi, francesi, tedeschi, che lo accolgono come quasi fenomeno, soprattutto per la sua grande abilità ritrattistica, e soggiorna parecchio tempo alla villa dell'Ombrellino, che era stata acquistata da Desboutin, un personaggio che troveremo anche in mostra, piuttosto sui generis, quindi un personaggio, un pittore, un anche incisore molto benestante, che acquistò questa villa, conducendo una vita mondana di grande ricchezza e di grande smodatezza, e che a un certo punto dovrà, senza più un soldo, perché aveva sperperato a Firenze tutto il suo patrimonio, ritornerà a Parigi, personaggio che troviamo in Degas, nei Bevitori di Assenzio, opera straordinaria già commentata negli incontri precedenti, l'uomo seduto accanto alla donna è appunto il nostro Desboutin. Ma proprio rivolto a Degas, mi piace leggere proprio quattro righe di questa compresenza, questa amicizia e inimicizia tra i due, perché appunto Desboutin accoglie Boldini nel proprio studio, nella propria casa per alcuni mesi. Questi sono tempi in cui Boldini volentieri si fa ospitare dagli altri artisti o dalle altre famiglie, perché è giovanissimo, ha delle risorse proprie, ma non infinite, poi vedremo che quando arriva a Parigi diventerà ricco, famoso e quindi dovrà e si sosterrà con la propria arte, ma era anche un personaggio inquieto Boldini, un personaggio che abbandonava le situazioni in cui si trovava, irrequieto soprattutto, che approfittava largamente anche delle ospitalità, imprendendo degli impegni che poi non lasciava. E proprio in questo suo carattere esplosivo, effervescente e anche teso proprio a frequentare gli ambienti mondani, a un certo punto Desboutin gli chiede indietro le chiavi dello studio e ricorda scrivendo una lettera a Signorini, dice Desboutin, caro Signorini, perché cercava di capire dove fosse finito Boldini, caro appunto Signorini, non avete notizia di questa disgraziata chiave e in ogni caso dove trovare questi infami Boldini? Perché Desboutin voleva riavere appunto il proprio studio e liberarsi anche dalle opere di Boldini. E qualche giorno dopo, qui siamo in estate, del punto della fine degli anni Sessanta, qualche giorno dopo, dice Fino a questa mattina non ho ancora ricevuto la chiave del mio studio e se neanche voi l'avete avuta, vi prego di aiutarmi a far pervenire questa mia, quel piccolo signore che mi tratta senza tanti complimenti, ciò che gli fa poco onore. Ecco, questo per inquadrare una personalità molto vivace, molto ben inserita nel mondo, ma anche capace di così far perdere la pazienza ai propri sostenitori. Di questi anni certamente abbiamo alcune opere importanti che rivelano gli inizi di Boldini, a parte i primi quadri che vi ho mostrato, degli inizi che guardano certamente da un lato, abbandonano la pittura ferraresi, diciamo l'inizio a cui Boldini aveva guardato le prime prove, abbandonano anche il colore così scuro e così quasi seicentesco, schiarisce la tavolozza, ma certamente dal punto di vista compositivo l'artista che più influisce su Boldini è certamente Degas. lo vediamo in quest'opera con le sorelle Lascarchi del 69, le tre sorelle giovani sdraiate malamente sul divano, quindi in posizione quasi fotografica e la fotografia ha molta forza anche su Boldini, così come su Degas e sugli altri artisti impressionisti. è una pittura riassuntiva, lo si vede già molto bene nella parte delle vesti con queste pennellate lunghe, nella parte anche del fondo, del muro di fondo, della tappezzeria, del divano, ecco rappresenta, le protagoniste sono a sinistra, quindi decentrate rispetto all'opera centrale, quindi con uno sguardo proprio laterale. Un momento fondamentale proprio di questi anni, poco prima della partenza di Boldini per Londra, è l'episodio con il rapporto di committenza, ma anche di amicizia profonda e probabilmente anche di amore con la famiglia inglese Falconer e con la villa La Falconiera a Pistoia. Boldini era stato chiamato da Madame Falconer, era stato chiamato a vivere in questa villa e soprattutto gli era stato commissionato un grande ciclo di affreschi. Ecco questa cosa è abbastanza atipica sia per i macchiaioli, sia per gli impressionisti e anche per questi anni, nel senso che normalmente dipingevano su altri formati, su altri supporti, tavolette, tele eppure Boldini, che era anche l'amante della signora Falconer, decide di affrontare questa importante commissione dipingendo la sala da pranzo della signora Falconer. Anche qui con tutta una serie di vicissitudini, affreschi e pitture lasciate incompiute, Boldini che parte e che ritorna, la signora Falconer che poi muore nel frattempo disperata perché appunto Boldini l'aveva abbandonata e aveva abbandonato i propri affreschi e quindi c'è tutta una vicissitudine sia personale che professionale finché Telemaco Signorini convince Boldini a terminare definitivamente gli affreschi che rappresentano la vita della campagna toscana per cui rappresentano il tiro con i buoi, rappresentano il mare della Toscana, rappresentano appunto la vegetazione, il lavoro nei campi. Tra parentesi questi affreschi sono abbastanza interessanti, poco conosciuti, anche perché la villa venne abbandonata dalla stessa famiglia. Boldini si scordò di aver eseguito questa operazione che era certamente di tipo decorativo, però interessante, fino a che gli affreschi non vennero ritrovati quasi casualmente, cioè casualmente, per una ricerca precisa dalla moglie di Boldini che poi vedremo dalla moglie dopo la morte di Boldini, moglie giovanissima, Boldini muore a 84 anni, la moglie appena sposata ne aveva 25, si mette in cerca di una villa e Boldini non ricordava dove fosse, in quale città fosse, si ricordava che era in Toscana, ma non si ricordava esattamente dove, finalmente la signora Boldini trova la villa abbandonata, trova per caso un luogo assolutamente lasciato andare, quindi non preservato e anche in grave stato di disfacimento e per caso, proprio con un atto di curiosità, si inoltre in una stanza abbandonata e trova questi affreschi. La villa viene acquistata dalla signora Boldini e poi successivamente restaurata, messa in ordine, gli affreschi sono stati poi strappati e donati insieme all'eredità anche della signora Boldini, della vedova Boldini, donati poi al comune di Ferrara. Quindi un episodio abbastanza particolare, ma che evidenzia anche la capacità di Boldini di entrare in committenze un poco diverse rispetto a quelle a cui gli artisti erano abituati. Sempre con la famiglia falconiera realizza un viaggio, un brevissimo viaggio in Costa Azzurra, in Francia, siamo in questi anni, 67, 70, 71, prima di trasferirsi appunto a Londra e l'opera diciamo più significativa di questo momento è questo ritratto del generale spagnolo che lo aveva ospitato l'intera famiglia e lo stesso Boldini nella sua casa, nella sua residenza in Costa Azzurra, un ritratto abbastanza tradizionale che guarda soprattutto alla pittura olandese seicentesca ma che evidenzia la grande capacità di Boldini di essere proprio un ritrattista e quindi un ritrattista anche tradizionale in questo caso ma con una già sua predisposizione per acuire il carattere, per acuire il carattere, lo sguardo, la personalità del ritrattato. Boldini sarà conosciuto nel mondo londinese e francese proprio come ritrattista. All'inizio del 1870 decide che l'Italia gli sta stretta, Firenze anche, Pistoia pure e decide di trasferirsi a Londra. rimane a Londra con una serie di avanti e indietro circa sedici mesi, sono mesi importanti perché lo innestano anche nella cultura londinese ma soprattutto nelle grandi famiglie londinesi ma in particolare Boldini a Londra guarda ai pre-Raffaelliti quindi guarda a una corrente che si stava consolidando, che aveva iniziato appunto nella metà dell'Ottocento ma che soprattutto negli anni 60 e 70 si stava consolidando, una corrente già simbolista in cui estetizzante, in cui al di là dei soggetti rappresentati molto lontani dalla vena realista o impressionista, ciò che emergeva era un'attenzione fenomenale al particolare, all'elemento decorativo, a una visione estetizzante anche dell'opera d'arte. Sicuramente Millet è una delle obbe, degli artisti e questa è una delle opere all'Ofelia che maggiormente lo affascinarono ma anche Whistler, con quella che molto spesso è stata citata come l'opera quasi che ha preceduto uno dei capolavori indiscussi di Boldini, cioè la donna bianca, nel senso che questa pittura bianco su bianco, questa luminosità, evanescenza, ma anche mancanza di corporeità e mancanza di realismo lo si vede, lo si intravede anche appunto nel ritratto di Emiliana con Cia de Ossa molto più avanti, circa 15 anni dopo, il cosiddetto il pastello bianco, ma per l'impostazione, per la sua evanescenza e per questo lavoro di bianchi su bianchi che costruiscono l'ambiente e la forma, ecco, uno dei punti di riferimento era stato senz'altro la permanenza appunto di Boldini a Londra e l'esempio di Whistler. A Londra Boldini diventa famoso come diventerà famoso anche a Parigi nel senso che fondamentalmente viene chiamato dalle grandi casate, dalle grandi famiglie a eseguire dei ritratti che in questo momento già manifestano la specificità e il linguaggio estetico di Boldini, quindi un incarnato molto luminoso, una grande attenzione, un incarnato luminoso e centrale, molto ben definito, mentre una velocità di esecuzione per gli abiti e per la struttura di fondo per l'ambiente. Già in questa come in altre opere Boldini proprio dimostra questa velocità di esecuzione, le cosiddette sciabolate, cioè la pittura sciabolata che è proprio diventa una cifra stilistica. Grandissima attenzione naturalmente alla moda, agli abiti, alle alle all'aspetto estetico delle donne e degli uomini rappresentati. però anche Londra non è come dire nelle corde, nel cuore di Boldini il quale nel 71 decide di trasferirsi a Parigi. Conosceva già Parigi perché aveva avuto nel 67 l'occasione di poter visitare la città e di poter visitare l'esposizione universale e nel 71 arriva a Parigi immediatamente proprio per questa sua predisposizione per il bel mondo e predisposizione per la ritrattistica Boldini viene assoldato dai Goupil dalla galleria d'arte Goupil che all'interno della quale aveva lavorato Van Gogh se vi ricordate aveva lavorato il fratello di Van Gogh anzi stava lavorando il fratello di Van Gogh no lavorerà il fratello di Van Gogh all'interno della quale per la quale anche di Nittis e molti altri artisti Messonnier eccetera Goupil certamente non seguiva un'arte d'avanguardia non seguiva gli impressionisti ma seguiva il mercato per cui faceva dipingere agli artisti ciò che i committenti chiedevano ciò che coloro che acquistavano chiedevano e in particolare quindi sicuramente una galleria tradizionale ma che pagava molto bene e che pagava molto bene e che aveva come sua matrice principale la produzione di scene di genere scene di genere dipinte anche con una pittura quasi settecentesca molto luminosa molto veloce a volte anche un po' come dire kitsch da un certo punto di vista perché erano piccoli quadretti o anche incisioni o disegni fatti proprio per il mercato per alcuni anni Boldini viene assoldato da Coupil e in questo stesso momento inizia una lunga relazione che sarà fondamentale anche con Bert che legge Bert questa donna che è bellissima una donna molto giovane una modella ma anche capace di avere proprio una entrata nell'alta società per cui una donna spigliata ma particolare che diventa l'amante di Boldini per almeno dieci anni e la modella per almeno una quarantina di opere e proprio sono gli anni di Coupil per cui troveremo questa donna all'interno di moltissime rappresentazioni di Coupil proprio realizzate per Coupil e nel 1871 Boldini appena trasferito a Parigi scrive caro Banti sono a Parigi da una settimana per cui era appena appena arrivato lavoro molto durante l'inverno sarà costretto a fare una corsa a Firenze per due o tre giorni avrò dunque il piacere di stringerti la mano Parigi mi piace un bugerio tantissimo è sempre Gaia è sempre brillante che non si sa probabilmente voleva dire brillante e le donne sono sempre le prime per l'amore e poi ancora continuo nella lettera ho cambiato idea credo che non verrò più a Firenze sono troppo impegnato con Parigi ho un amante qui da far venire l'acqua alla bocca è troppo bella e troppo buona quindi mi sarebbe impossibile lasciarla per ora ed è evidente che lo spirito di Boldini il quale fu un grandissimo artista ma anche un uomo di mondo iniziò ad avere un successo strepitoso con le più grandi famiglie parigine ma anche con le donne e questa sua questa sua fascinazione questo suo modo anche di guardare la figura femminile è centrale proprio in tutta la sua produzione scrive ancora caro Banti spero che non sarai morto cosa vi è di nuovo di te e quando mi viene a fare una visita a Parigi erano passati alcuni mesi questa città è la sola la vera per gli artisti qui si lavora molto ci si diverte si arriva ad avere tutto ciò che si desidera vi è una gaiezza una vita tra gli artisti che fa piacere si lavora molto e si è pagati bene non si è mai venduti tanti quadri come quest'anno Gupilla ha cominciato a far montare la mia pittura molto bene far montare la pittura voleva dire piazzarla sul mercato io ne sono contentone ho preso un pianoforte erarda per quando mi vienrà l'estro musicale ecco questo è Boldini nella sua sincerità quindi un artista istintivo un uomo di mondo un uomo molto affascinante nonostante appunto la sua altezza capace proprio di entrare nel vivo del mondo parigino dal punto di vista pittorico qui siamo proprio nel dieci anni sette otto anni della pittura di Gupilla che è una pittura effervescente quasi rococco quindi non è ancora la pittura diciamo prettamente boldiniana ma è una pittura veloce rococco luminosissima lo vediamo nei particolari tesa proprio alla bellezza e alla splendore degli abiti dell'ambiente e del alcuni ritratti questo è sempre Bert quindi alcuni ritratti della donna ma lo vedete anche come sono ambientate come sono gli abiti come sono gli arredi sono volutamente quasi scene settecentesche che andavano molto bene nella nel nel mercato contemporaneo ecco nonostante questa vicinanza e questo lavoro di Boldini per Gupilla per una committenza certamente non d'avanguardia ecco nonostante che ecco guardate Messonnier era uno degli artisti più amati dal Salon ma anche più amati appunto da Gupilla e dagli acquirenti di Gupilla addirittura mette in scena per uomini e donne vestite alla proprio alla seconda metà del Settecento quindi anche fuori tempo e lo vedete anche da parte di Boldini queste sono sue opere per il periodo Gupilla scena galante nel parco di Versailles ecco l'avventura con Gupilla due figure in maschera quindi proprio bravura pittorica bravura nella velocità ma certamente non opere di grande spessore di contenuto la in contemporanea l'avventura Gupilla che termina nel Settantotto perché a questo punto anche Boldini come Denitis come gli altri sentivano troppo stretta questa gabbia troppo stretto il mercato e avevano iniziato a chiedere altre cose e a muoversi e soprattutto Boldini ormai era entrato in pieno nelle corde della grande borghesia francese per cui non aveva più bisogno della di Gupilla contemporaneamente diventa anche un frequentatore assiduo della Caffè la Nouvelle Atenna dove si trovavano proprio gli impressionisti e quindi qui conosce Pizarro conosce Manet conosce Degas con il quale ha un rapporto di amicizia effettuerà anche lunghi viaggi in Italia e non solo in Italia e si inserisce appieno nella pittura e nelle discussioni dell'impressionismo sebbene non esporrà poi con gli artisti impressionisti e qui siamo agli inizi degli anni Ottanta inizia proprio la sua produzione più matura più interessante quella che ormai ha abbandonato Gupilla ha abbandonato anche gli strascichi della pittura macchiaiola degli esordi e si rivolge sia a una pittura che rappresenta la Francia rappresenta Parigi le strade eccetera ma soprattutto alla ritrattistica famoso è diventa proprio famoso in particolare per la ritrattistica paesaggi come questo o rappresentazioni di scene della vita parigina ci sono ma sono sicuramente meno conosciute sono soprattutto produzione più personale meno dettate appunto per il mercato come possiamo vedere certamente l'insegnamento dell'impressionismo è presente perché illumina la tavolozza spezza il colore diventa anche l'attenzione per la scena contemporanea molto forte eppure Boldini non è un vero impressionista ma ha proprio la sua cifra stilistica che lo distingue moltissimo dagli altri basta guardare anche questo notturno a Montmartre dell'83 e l'utilizzo di questa pittura scura di questa pittura densa che si muove per sciabolate di luce di ombre è molto lontana dagli impressionisti così come noi li abbiamo visti fin qua l'artista che più era per lui punto di riferimento l'ho già detto era Degas tanto che con Degas frequente caffè notturni la vita parigina notturna proprio la vita della bella epoca e questa opera molto bella molto anche con taglio fotografico particolare lo evidenzia vedete tra parentesi la cantante mondana non è una rappresentazione tratta da una scena realistica all'interno di un caffè ma è montata nello studio stesso di Boldini per cui è lì nel suo studio con qualcuno che suona il pianoforte e la rappresentazione così di spalle di schiena il taglio a destra e a sinistra noi non vediamo chi è l'uomo che sta suonando il pianoforte vediamo solo le vani la luce violenta sull'incarnato della donna e gli altri elementi che entrano poi nel buio sono proprio impostazioni alla Degas molto fotografiche ma anche di un'immediatezza che avevamo visto in Degas contemporaneamente la sua diciamo relazione le sue relazioni personali diventano sempre più burrascose oltre che con Bertha inizia una relazione con Madame Gabriella che vedete qui alla vostra sinistra per cui a destra c'è Bertha e a sinistra Madame Gabriella una aristocratica molto sensuale con cui avvia una relazione che dura contemporaneamente a Bertha per lunghi anni e diventa anch'essa la diciamo la modella per moltissime opere anche a carattere scabroso ecco un'opera come questa le due donne sedute al caffè sono vicine anche per impostazione a Degas e ricordano moltissimo il ritratto che Degas fece di Mary Cassatt un artista appartenente anche al gruppo impressionista dell'84 proprio per la pittura riassuntiva per la posizione che Degas offre che anche Boldini aveva dato a quest'opera eccola qua Madame Gabriella alla vostra sinistra è una donna molto bella molto sensuale persino in questa azione in cui sta appunto degustando le prime le primizie le prime fragole ha questa sua sensualità che poi troveremo in moltissime opere di Boldini pastelli disegni opere a olio addirittura spinte fino a una rappresentazione quasi carnale della donna che si lascia rappresentare in una posizione intima ricordiamoci anche di Degas le donne al bagno viste dal buco della serratura eccetera per cui c'è questa capacità di guardare dietro le quinte molto forte ecco dal punto di vista pittorico qui siamo proprio nella rappresentazione di Boldini maturo dove il colore è estremamente libero costruisce la forma attraverso il colore e soprattutto il piano di fondo le sciabolate la luce diventa un valuginare di una pittura velocissima alcuni pastelli con la stessa donna e questi disegni che ricordano moltissimo proprio gli disegni di Degas la la Maison Tellier e quando Degas guardava alla al mondo delle donne delle prostitute o al mondo intimo delle donne della loro toilette del loro momento in cui si vestono o si svestono ecco certamente questi anni sono gli anni di maggior rilevanza per la grande ritrattistica di Boldini il quale diventa ricco famoso mette in scena la belle epoca mette in scena proprio la capacità di cogliere la vita parigina di cogliere anche la sontuosità degli abiti la freschezza e la pittura diventa questa pittura velocissima riassuntiva luminosissima dove prendendo anche spunto dalla pittura olandese aveva fatto un lungo viaggio in Olanda guardando appunto soprattutto Franzassa ma anche altri pittori olandesi porta quest'idea del volto e dell'incarnato molto illuminato di fronte proprio come se ci fosse un faro e che rende vitale e viva proprio la rappresentazione lo rivediamo in quest'opera che abbiamo già visto dell'88 il pastello bianco oggi custodita all'accademia di belle arti di Brera la pinacoteca di Brera ed è un'opera guardiamola nel particolare proprio ottenuta con questa pittura riassuntiva con questa pittura velocissima a sciabolate di colore e su questa un'opera interessantissima la signora dello studio dinanzi al pastello bianco quindi riprende la una signora parigina che diventa una silhouette nera che guarda la sua opera la quale è esposta in una sorta di caffetteria per cui c'è questa sorta di circuitazione che non è nuova l'avevamo già vista in molti altri artisti che rappresentano un'opera già realizzata ecco ancora alcuni ritratti di questi anni vedete qui la centralità del volto e dell'incarnato sempre più realistici rispetto all'elemento riassuntivo e velocissimo dell'abito e dello sfondo ma ecco qui ormai siamo di fronte al Boldini conosciuto al Boldini maturo capace anche di dare freschezza nella propria ritrattistica gli uomini sono certamente meno ritratti rispetto alle donne ma come in questo caso c'è quest'idea di capacità di proprio di dare la noia di dare la personalità sta il conte di Montesquieu sta guardando annoiato il suo bastone da passeggio probabilmente pensando cosa fare come occupare la propria giornata molto preciso anche nella rappresentazione degli abiti della struttura dei baffi e di questa raffinatezza che conduceva lo stesso Boldini ma conduceva anche il mondo che lui frequentava pochissimi le nature morte pochissime questa è una delle poche nature morte che rappresenta alcuni oggetti del suo studio particolare anche per il taglio verticale particolare per il taglio dall'alto verso il basso che è proprio un taglio fotografico è come se Boldini in piedi avesse fotografato gli oggetti sulla propria tavola e anche qui mi piace farvi vedere come appunto ci sia un'arditezza anche compositiva non un taglio verticale non c'è non va a perdersi mai nella rappresentazione dei particolari del fondo della leziosità tutto quello che aveva fatto per Goupil viene in età matura assolutamente abbandonato diventa anche il ritrattista delle donne famose soprattutto le donne teatrali le grandi attrici le danzatrici come Cleo una ballerina avviata a 12 anni alla danza a 15-16 anni divenuta famosa per tutti i palcoscenici palcosceni i teatri non solo francesi ma anche europei che aveva dato il là a eccola qua alla moda giovanissima destra un po' quindi sedicenne quando inizia a debuttare all'Opera di Parigi e qualche anno dopo alla nostra sinistra dà il là anche a questa pettinatura con le due frange accanto alle orecchie una donna bellissima e che diventa anche un'icona di moda proprio per la Parigi per le donne della bella epoca qui la vediamo con queste scollature profondissime con questa pittura che dalla oltretutto dalla blusa con gli stessi colori si alza nel fondo e c'è una propria libertà ormai acquisita di composizione fortissima ancora opere di questi anni in cui vedete proprio questa sua sua velocità e sua capacità di cogliere anche l'animo delle persone ritratte famosissimo il ritratto di Giuseppe Verdi lo stesso Verdi quando lo vide finito disse ma io sono così serio così quasi serioso così mi vedete in maniera così appunto poco a meno alla velocità poco così serio e in effetti Boldini lo aveva colto nella sua imperiosità nella sua capacità di grande compositore ma anche di uomo tutto d'un pezzo e ancora alcuni ritratti proprio di questi anni ecco vedete come ormai lui è libero libero di creare gli abbigliamenti libero di confondere l'abito con questa pittura sciabolate diagonali quasi elittiche in maniera proprio quasi quasi barocche da un certo punto di vista e la struttura centrale risulta sempre il volto le spalle le braccia per poi estendersi in una maggior libertà nell'abito nel mazzo di fiori e si confonde proprio con il fondo questo ecco sono opere di grandi dimensioni quasi sempre alcune addirittura di dimensioni al vero altre di dimensioni un poco più piccole ma ha abbandonato anche la piccola dimensione che era quella dei suoi inizi della pittura appunto macchiaiola ecco qui una serie di altri ritratti Boldini Boldini continua la sua produzione anche negli anni dieci negli anni venti fino direi quasi fino agli ultimi giorni fino al 1931 quando muore all'età di 85 circa 85 anni ecco la forse questo è l'ultimo grande ritratto del 1924 a cui mette mano ormai direi che la cifra stilistica l'abbiamo conosciuta in tutti questi anni Boldini non 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 si sposa non ha una grande abitazione a Parigi certamente è ancora pieno di committenze proprio negli ultimi anni della sua vita incontra Emilia Cardona Boldini che poi diventerà sua moglie una giovanissima giornalista di ventiquattro anni la quale racconta lo voleva intervistare perché era appena arrivata a Parigi e lavorando per una rivista il suo compito era intervistare i grandi personaggi di Parigi la stessa Emilia Cardona racconta in alcune memorie questo avevo chiamato al suo numero della rete telefonica parlo con Boldini sì sono io vorrei intervistarla io non ne ho bisogno risponde lui ma io sì sono a Parigi per questo vivo facendo interviste che mando a un giornale italiano da quando in quale donne italiane si sono messe a lavorare dice Boldini dal dopoguerra quanti anni quanti anni ha lei madama non lo so e lei forse i miei li sa lavora per vivere per vivere a Parigi pressa poco allora venga domani alle undici e lei racconta mi ero svegliata presto avevo preso il metrò da Buona Piemontese mi ero fatta mi ero fitta il capo di arrivare puntuale invece mi smarrì feci fatica a trovare il boulevard Bertie dove abitava Boldini quel numero 41 e quando misi l'indice sul bottone del campanello elettrico mi accorsi di essere in ritardo tra felata e spettinata quasi pentita di aver tanto insistito per essere ricevuta percorsi con lo sguardo la prospettiva del boulevard l'estate del 26 era stata freddissima Parigi era intirizzita e grigia suonai una seconda volta sicura di vedere apparire sulla soglia della porta di legno ornata da un ramo di ferro battuto un servitore in ghingeri e livrea ebbe un colpo venne ad aprire un piccolo vecchio dal torace ampio dalle gambe torte vestito di marrone che portava in capo un berretto ed era Boldini i due iniziano a frequentarsi e poi Boldini alla giovane età di 84 anni decide di sposarsi non senza la ritrosia dei suoi parenti perché naturalmente vedevano in questo matrimonio una sorta di così di entrata di una donna sconosciuta giovane che era appena arrivata a Parigi e che avrebbe ovviamente ereditato anche tutta la sua produzione in realtà si sposarono nel si sposarono nel 1930 nel 1931 Boldini muore e Emilia in realtà eredita tutte le opere di Boldini ma inizia a fare un percorso di grande spessore perché anziché disperderle e venderle trova come vi ho detto prima la villa in cui Boldini aveva eseguito gli affreschi decide nel 1938 di acquistarla trasferisce tutti i beni le opere pittoriche ma anche i cavalletti insomma tutti gli attrezzi e i ricordi di Boldini li trasferisce in villa e rimane proprio come custode come erede di questo grande artista fino alla donazione poco prima della sua morte alla comune di Ferrara della eredità tanto che a Ferrara viene aperto appunto il museo dedicato a Boldini ecco questa è la storia appunto di un artista che dall'Italia trasferendosi in Francia non si è omologato alla pittura francese di questi anni ma che ha portato all'interno proprio della pittura francese accanto agli impressionisti ha portato una cifra stilistica assolutamente riconoscibile e estremamente virtuosa e capace proprio di infondere e di rappresentare molto bene la belle epoca io vi ringrazio chiudo questa presentazione chiudo anche la presentazione e scusate ecco chiudo la presentazione ricordo vi chiedo se naturalmente ci sono delle questioni delle domande guardo subito che tipo di rapporto aveva con le sue modelle secondo lei certamente un rapporto beh con alcune un rapporto assolutamente professionale nel senso che veniva chiamato a rappresentarle in altri casi sicuramente lo abbiamo visto un rapporto un rapporto come dire anche carnale anche di amore di relazioni ma anche relazioni lunghe nel tempo certamente era un uomo molto affascinante un dandy che piaceva molto alle donne in quanto della sua produzione ancora visionabile a Ferrara al museo Boldini di Ferrara ci sono almeno 60 opere pittoriche di importanti di grande dimensione sicuramente il nucleo più importante di questo artista e anche moltissimi disegni studi eccetera e quindi certamente è una diciamo una un nucleo che va visto per lo studio stesso di Boldini io se non ci sono altre domande guardo anche su Facebook mi sembra non ci siano ah ce ne sono ancora grazie mille grazie a voi si possono rivedere le conferenze sì certo si possono rivedere sia sulla nostra pagina Facebook ma anche si possono vedere su YouTube nella pagina YouTube del Museo Maga ricordo che le conferenze proseguiranno anche nelle in altre due incontri salteremo il 25 aprile il weekend del primo maggio invece riprenderemo a ridosso dell'apertura della mostra che speriamo di poter comunicare in questi giorni anche in base appunto al decreto e alla riapertura dei musei l'8 di maggio con un incontro dedicato a Toulouse trek e il 15 di maggio con un incontro appunto dedicato a Renoir io vi ringrazio per la vostra sempre numerosa presenza e vi auguro buona serata a Toulouse a Toulouse